Un grosso parcheggio in via del Macello, completamente vuoto e a pagamento notte e giorno. Di rimpetto un'area è il terzo lotto del polo logistico che sarà destinato a medesima funzione in vista dell'aumento dei tifosi e della sistemazione del comparto. Sull'area Lucchini, a poche centinaia di metri, altri posti diventeranno parcheggi blu, come molti degli stali previsti nel raddoppio del multipiano di via Dante, i cui lavori sono bloccati a fronte di un aumento di richieste di parcheggio nella struttura. Entrambe le partite fanno capo ad AEM, in Consiglio Comunale il problema più volte è approdato e tornerà ancora. Si pensava fosse parcheggio a colonna gratuiti, invece vedo che li stanno facendo a pagamento, per cui non ho idea di quello che si voglia fare per risolvere il problema del parcheggio a Cremona. Stanno cercando altri cento posti macchine da mettere a pagamento e anche da quel punto di vista lì vuol dire cento posti meno gratuiti. Da quando c'è l'amministrazione Galimberti, dal 2014, ho visto decimare i parcheggi gratuiti in centro. Buona parte sono diventati a pagamento, un'altra buona percentuale è diventata per i residenti, quindi i parcheggi liberi sono rimasti ben pochi. Non capisco chi va a lavorare in città come possa arrivarci in auto. Questo crea grosse problematiche, problematiche sia a chi deve venire a lavorare in città, sia alle attività del centro. Non c'è parcheggio, la gente va altrove. Una progettazione di insieme che consenta realmente a chi vuole raggiungere il centro di poter usufruire di parcheggi non troppo distanti e stali gratuiti è necessaria se si vuole mantenere la città viva. Il parcheggio in piazza Marconi sarà anche vicinissimo al centro, ma non è proprio a buon mercato. La cassa si vuole fare secondo me più che altro per AM, si sta fornendo ad AM delle fonti di introito, visto che ha ceduto gli assi strategici prima LGH poi ad A2A, si avrebbe una pianificazione. Va bene mettere a pagamento i parcheggi in centro, ma dare la possibilità di avere dei parcheggi nel raggio di due chilometri dal centro che siano gratuiti.